anche quest'anno torna al castello dell'arancia la rassegna filofiction una riflessione tra filosofia e televisione pop sofia è abituata a queste contaminazioni ma quest'anno per l'edizione 2017 abbiamo preparato alcune novità la rassegna partirà con l'indagine relativa ad un personaggio che in realtà non fa parte delle serie tv ma è un istrione italiano quale giorgio gaber che con lo spettacolo le storie del signor g però ha realizzato dei dvd che hanno avuto un incredibile successo insieme ad elena torre ragioneremo su questa capacità di ironizzare e riflettere di questo grande personaggio italiano che così tanto ha insegnato anche alle generazioni contemporanee il sabato e la domenica invece sempre alle ore 17 ritorniamo nel settore serialità televisiva americana il sabato insieme a due giovanissimi scrittori parleremo di baffi la mazza vampiri anche lì una serie che ci ha raccontato gli anni 90 che ci ha divertito sapendo unire anche lì una sorta di tragico media dove l'umorismo si mischia alle situazioni più tragiche e drammatiche la domenica con ricaldo da ferro un giovanissimo filosofo e youtuber parleremo invece della sitcom un'altra forma istantanea di riflessione contemporanea di battute una dopo l'altra che però è stata capace soprattutto negli ultimi anni di affrontare grandissimi temi legati alla bioetica la politica alla società contemporanea attraverso la leggerezza di una risata riccardo dal ferro ci racconterà quindi attraverso i filmanti come si possa ridere e riflettere contemporaneamente attraverso le fettine di godimento potremmo dire con la canna regalateci dalle sitcom di godinica di godinica Grazie per la visione!